La scuola italiana si informatizza, registre e pagelle online saranno le novità dell'anno scolastico 2012-2013 via il cartaceo qui in dispazio alla digitalizzazione più veloce, più funzionale e decisamente economica. A dare il via alla nuova era multimediale della scuola il pacchetto spending review approvato dal governo Monti lo scorso luglio. Sull'alto di Reno Cosentino il primo istituto ad essersi messi in linea con le nuove direttive impartite dal ministero della pubblica istruzione è stato il liceo Pietro Metastasio di Scalea. In ogni aula sarà installato un computer, ogni docente interagirà con due registri, quello personale in cui inserirà i voti delle interrogazioni e dei compiti scritti e quello generale di classe. E i primi a beneficiarne saranno i genitori che da casa tramite internet potranno tenere sotto controllo l'andamento scolastico dei figli. E per chi teme violazioni della privacy niente paura, ogni alunno avrà la sua scheda personale a cui si potrà accedere solo con l'apposita password. Ma non è tutto, il ministro dell'istruzione Francesco Profumo ha annunciato che nelle prossime settimane ad ogni classe delle medie e delle superiori sarà consegnato un computer. In Calabria invece l'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri ha dichiarato che ad ogni professore verrà assegnato un tablet. Ma non è tutto oro ciò che luccica. La scuola soffre e la prima campanella in Calabria suonerà il 17 settembre, ma i sindacati sono già sul piede di guerra e annunciano per il 20 ottobre lo sciopero generale. Sul tavolo è il piano di ridimensionamento approvato lo scorso anno dal governo Scopelliti che ha portato le istituzioni scolastiche a 407. Il dato più grave, dicono dalla CGL, è che 88 istituti sono stati dimensionati al di sotto dei parametri previsti dal ministero.